In arrivo un nuovo DPCM con relative norme anticontagio che dovrebbero andare in vigore dalla prossima settimana. Il Consiglio dei Ministri infatti ha approvato il testo con il nuovo decreto legge sull'emergenza Covid. L'Italia sarà divisa ancora in zone ma dovrebbe fare il suo ingresso anche alla zona bianca, ovvero un'area con indice RT sotto l'1 e incidenza dei contagi per tre settimane consecutive inferiori a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In queste aree le restrizioni saranno minime. La Calabria invece sarà inserita molto probabilmente in zona arancione, come accaduto in questi ultimi giorni, mentre tre potrebbero essere in zona rossa, ovvero Lombardia, Emilia Romagna e Sicilia. Previsto inoltre il diveto di spostamento fra le regioni e le province autonome fino al 15 febbraio, verrà inoltre prorogato lo stato d'emergenza fino al 30 aprile e resteranno in vigore il coprifuoco e la regola che consente a un massimo di due persone di andare a visitare amici o parenti una volta al giorno. Consentiti ancora gli spostamenti dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri, con esclusione in ogni caso gli spostamenti verso i capologhi di provincia. Fra le misure previste anche lo stop all'asporto dei bar dopo le 18 e la proroga della chiusura degli impianti da sci.